cerchiamo di rivedere stasera un po' i concetti che abbiamo visto che ho cercato di presentare in questo video che è il video dove presentavo le meraviglie di Mozilla Hubs l'idea, e tra l'altro adesso volevo rifare un po' il giro con voi di Mozilla Hubs comunque l'idea era di presentare un sistema che permette di entrare in un ambiente 3D e esperirlo sia in modalità normale normale vuol dire dal PC come quello che vedremo stasera perché stasera rimarremo attaccati tutti al PC in pratica però si può entrare anche con il semplice cellulare piuttosto che con dei visori di realtà virtuale quindi Oculus Go piuttosto che Oculus Quest e piuttosto che HTC Vive e quanti ne possiamo immaginare allora questo sistema è Mozilla quindi tra l'altro io sto usando Mozilla anche per un altro motivo perché Mozilla sembra funzionare da me meglio con Google Meet non chiedetemi perché nel senso che Chrome non mi vede il microfono quando entro in Meet e invece Mozilla sì quindi se voi entrate in Mozilla e cercate semplicemente Mozilla Hubs per italiani vedete che abbiamo questa finestra di ingresso e questa finestra di ingresso è secondo me una delle più semplici possibili l'unico piccolo trucco qua è che è meglio usare Mozilla Hubs quando si è collegati con Mozilla quindi quando si ha effettivamente un account in questo caso io ho un account salazargmail.com e come tale io sono riuscito a entrare si può usare anche senza account però alcune funzionalità sono ristrette quindi diventa un pochino più problematico io ho fatto comunque delle prove l'altro giorno con degli amici ho visto che chi non ha un account su Mozilla può farsene uno in pochi secondi nel senso che quando chiede la registrazione gli viene chiesto un'email e poi è sufficiente che vada nell'email e cliccare un link quindi in realtà è un'operazione abbastanza semplice ok allora quindi vi consiglio caldamente di registrarvi quindi di fare tutto il piccolo giro se già non lo siete e poi comunque la cosa che è importante è la possibilità che si possono avere che la più principale è quella di creare una stanza ora prima di andare avanti volevo solo chiedere quanti di voi hanno già usato Hubs o viceversa chi non l'ha mai usato non so nulla giusto per sapere come come entrarmi no? perché se tutti voi sapete sapete entrare mai usato ecco volevo solo capire più o meno quanti utilizzato mai usato non ancora ok quindi abbiamo come al solito una situazione abbastanza mista ancora no allora visto sarò un po' noioso e comunque c'è già il video effettivamente ma conviene fare comunque un giro insieme anche se c'è il video perché ci sono delle cosine che magari e tra l'altro voi io ogni tanto cerco di rientrare in questa chat e se avete dei dubbi delle perplessità fermatevi pure o scrivete in chat o se io non riesco a leggere magari bloccatemi con l'audio comunque la cosa più semplice di questo mondo è andare in creator room quindi creator room è proprio una di quelle isole che noi sappiamo di OpenSIM ma è anche un po' quello che si fa su Altspace e la prima cosa che succede è che viene creata una isola con questo modello questa scena qui si chiamano scene in Altspace si chiamavano template sono delle cose dei prefabbricati cioè delle cose già fatte quindi se questa scena a voi non piace potete fare choose scene e andare a cercare un'altra ad esempio possiamo invece che la river island possiamo andare su outdoor dome o su qualunque altra e semplicemente cliccando qua sopra possiamo impostare la scena la scena è lo scheletro della vostra della vostra isola quindi la possiamo fare così e tra l'altro visto che siamo tutti insieme possiamo andare a cambiare il nome ecco tra l'altro il cambiare il nome è proprio una di quelle cose che abbiamo visto con degli amici l'altro giorno non si può fare se non siete iscritti quindi è una di quelle cose che necessitano l'iscrizione comunque cambiare il nome significa andare a mettergli qua un nome quindi facciamo corso corso hoops oggi che giorno è? il 20 il 20 maggio spero maggio qui si può mettere una descrizione e quindi potete mettere quelle collette e poi potete mettere il numero di persone che possono stare in questa stanza mi sembrava di aver letto che possono starci più di 24 probabilmente consigliano 24 ma si possono stare mi sembra fino a 30 rotte 34 35 comunque per i fini educativi didattici probabilmente 24 va più che bene e comunque le persone in più non possono partecipare rimangono nella lobby comunque da questa da questa finestra si possono controllare anche tutti i diritti che hanno le persone che entrano dentro quindi se voi quindi in particolare si può consentire alle persone di fare di volare di creare disegni di fare le emoji quindi di fare tutte le faccine eccetera e di creare degli oggetti adesso vediamo tra l'altro nel video forse non l'ho fatto vedere bene ma creare oggetti è una delle cose più interessanti e più più attraenti secondo me di questa piattaforma e tra altre cose si possono creare delle camere quindi per fare dei video o per far vedere dei video e poi si possono fare degli pinnare degli oggetti comunque adesso vediamo un pochino meglio allora corso hubs 20 maggio allora se voi volete voleste entrare nella mia stessa stanza la cosa più semplice è che io vi fornisca lo share link quindi adesso faccio ctrl c di questo share link e ve lo passo sul sulla chat non mi sentite pronto 1 di 3 ma mi avete perso per un no ma gli ultimi 5 minuti mi avete sentito sì perfetto mi è venuto sempre mi sentiamo sempre no no perché poi uno magari fa una lezione parla per 20 minuti e poi dico non ti sentivamo allora questo è il link che come vedete è un link che fin tanto che copiato e incollato è abbastanza semplice quindi se volete potete anche cliccarlo ed entrarci chi ha chi volesse effettivamente usarlo da Oculus Link o Go potrebbe avere dei problemi a digitare le minuscole e le maiuscole di questo hub link ed è per quel motivo che loro vi danno anche un sei cifre numeriche questo vuol dire che se voi andate in hub link questo lui vi chiede di digitare e questo è fatto soprattutto per il Go il quest quella sequenza di sei cifre che sono relativamente facili da impostare ok quindi quando entrate nella 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 stanza appena creata io ho visto che ci sono molte persone che si chiamano i modi più strani ecco la prima cosa che vi chiedo è di cambiarvi il nome quindi andate in alto a sinistra e fate set name and avatar e a questo punto potete fare due cose prima di tutto sceglierevi un avatar e poi sceglierevi soprattutto il nome una volta fatto questo dovreste se vi piace quel nome quel nome tutto lungo no va bene però effettivamente la cosa più interessante è di poter tenete conto che quando siete nella nella lobby in realtà in teoria potete chattare quindi io faccio chat e in teoria chi è dentro chi è fuori dovrebbe vedere tutto quindi adesso faccio enter room quando si entra nella stanza si si può entrare o con un connector di via headset ma questo è un pochino più complesso non ve lo raccomando voi probabilmente entrerete così enter on screen dopodiché vi farà vedere che se parlate compare il talk e soprattutto stasera io magari lo muto perché c'è già google meet e comunque l'audio setup quindi facendo click si sente e si può entrare allora a questo punto siamo entrati e quindi io sono praticamente nella stanza e la prima cosa che notate ecco Shantaram che è entrato come conte scusate scusami sala mi rimanderesti il codice per favore che me l'avevo perso che stavo installando perché io l'avevo sempre usato dall'oclus quindi volevo vedere qua si te lo mando sulla chat qua di meet va bene si va bene ma il codice è quale quello di 6 cifre o quello fai te sono col computer se lo posso copiare si ma l'ho appena mandato quindi sulla chat qua c'è quindi se non l'hai visto forse devo mandartelo da qualche altra parte un attimo lo sto copiando non riesco ok lasciate qui ok ah vedo che ci sono diversi avatar c'è Eva che si è fatto l'avatar ecco la cosa interessante di tutta questa cosa qua è che si può entrare senza tanta passione nel senso che in Alspace VR l'ingresso come ha verificato adesso io non è che voglia contrastare Alspace VR assolutamente parlando di hub anzi io ringrazio il fatto che sia presente Alspace VR questo l'ho già detto altre volte perché Alspace VR ha dimostrato che è possibile fare dei mondi virtuali con la qualità degli avatar contenuta no? e questo è diciamo una specie di sdoganamento che per chi viene invece da Second Life c'è questa specie di visione che i mondi virtuali sono sono solo fatti bene solo che il problema è che i mondi virtuali fatti bene sono poco friendly per i cellulari sono poco friendly per per chi ha computer insomma piccoli come tipicamente è nelle nelle scuole ok? ora qui l'altra cosa che a me piace molto è che la chat qua esiste no? e la chat soprattutto quando siete in un posto in cui ci sono persone che parlano una lingua diversa dall'italiano aiuta molto perché io ad esempio se scrivo hello guys insomma posso parlare invece su alt space vr sono obbligato al 99% a usare la voce cosa che per se non parlo benissimo l'inglese o l'americano almeno per noi italiani ho visto che è stato spesso una barriera poi magari è anche una mia sensazione quindi mi sbaglio quindi chiedo anche a voi di darmi o meno conferma però diciamo che gli avatar qua non è che siano inferiori a quello che si vede su alt space anche se ovviamente su alt space c'è qualcosina di più perché ci sono le mani scusa Salazar riuscireste a mandarmi il codice perché con quello forse riesco a entrare perché con l'altro non c'è la faccia quale codice? il codice numerico scusami ah il codice numerico questo se puoi se no faccio in un altro comunque è 193455 ok grazie ecco infatti un'altra cosa che si può comunicare facilmente è perché è un numero di telefono probabilmente l'hanno fatto così il codice numerico tra l'altro se leggete è un codice che rimane costante per 72 ore quindi è fisso per 72 ore 72 ore tra l'altro quando sono 24 48 saranno almeno tre giorni o sono tre giorni voi che siete matematici cosa comunque sono un tempo sufficiente per gestire diciamo un incontro tipo un fine settimana o cose del genere cosa allora qui sono mutato quindi qui possiamo muoverci e ci muoviamo con i soliti comandini che sono W A che è a sinistra SD che sono i soliti comandini che si usano nei giochi nei videogame e che mi sembra che funzionino anche su SwatSpace e gli altri però anche le freccine funzionano quindi si possono usare anche le freccine quindi è molto friendly per la tastiera e visto che ci siamo speriamo subito come fare qualcosina no? qua dentro quindi adesso questa è un'aula in quest'aula ognuno di voi può se vuole creare degli oggetti allora le cose più semplici forse da fare sono farsi delle foto quindi c'è a destra abbiamo la camera se cliccate la camera compare la la camera e che serve una macchina fotografica e poi a questo punto potete se non vado in rato fare sia foto che fare dei piccoli video no? allora se cliccate sulla foto si ferma il per tre secondi e poi viene generata una foto e la foto viene rezzata immediatamente davanti a voi ecco contrariamente a ad Altspace VR dove fare foto è possibile ma viene considerato pesante qui pare che fare foto non sia così pesante insomma si possono creare insomma moltissime di queste di foto o o o altre altre cose la camera poi quando non vi serve più credo che forse vada via automaticamente quando avete fatto la foto ma se per caso avete degli oggetti tra cui anche le camere che volete far fuori perché sono sono complicate insomma danno fastidio potete premere la barra spaziatrice c'è lo spazio e poi potete andare su un oggetto qualunque e dirgli in quell'oggetto ad esempio di buttarlo via quindi adesso magari sto buttando via qualcosa di un altro ma ok ho buttato via e quindi questo è un modo dunque fare foto è pesante in Altspace tutti i corsi che ho fatto io in Altspace raccomandavano e anche tutto proprio il sito di non prenderne mai più di 5 di foto sì sì ma loro infatti secondo me è una rigidità perché in effetti con Fabio che è qui Samos abbiamo fatto delle lezioni in cui sono state fatte ben più di 5 foto stiamo parlando anche di serate in cui sono state fatte in Altspace anche 10 20 forse anche 30 foto per fatte intendo non solo fatte ma anche messe nel mondo quindi messe per fare una galleria o per fare qualcosa l'esperienza che abbiamo avuto noi in Altspace è che la gestione degli oggetti rezzati è complicato perché a meno che io sappia non è facile indicare un oggetto e dire quello lì lo voglio tra l'altro qui se voi prendete non so se vedete sul mio schermo se voi andate con il mouse su una foto e poi cliccate la potete muovere e siete sicuri di muovere quella allora qualcuno c'è il microfono acceso forse qua quindi eventualmente controlli i propri microfoni comunque qui ad esempio in questo momento sono stati creati 22 oggetti che credo che siano quasi tutte foto quindi se andiamo a vedere qui ci sono tutte le foto e si possono vedere quindi è anche molto semplice andare a vedere i vari oggetti quello che forse non è facile da fare è di cambiare il nome anzi probabilmente non si può che è un pochino un problema questo reticulum che vedete è il nome dell'oggetto si chiama reticulum in quanto reticulum è il sistema di mozilla che permette di fare un servizio cioè è un po' come fosse amazon in pratica quindi è un server di file di immagini e di multimedia non so fin qui tutto chiaro torno un attimo sul Meet per vedere se ci sono se ci sono domande o altro ok si ma di per sé comunque la cosa veramente interessante è che non dico che sia proprio immediatissimo ma è semplice insomma da usarsi quindi anche questa cosa qua che tutti gli oggetti volendo si possono vedere integralmente è abbastanza interessante si possono vedere anche tutte le persone collegate quindi vedete che c'è Aquilone Aquilone tra l'altro si vede che ha una telecamera quindi probabilmente sta facendo delle foto io posso modificare la mia immagine e così via una cosa che mi sembra che manchi rispetto ad Aspess o altri sistemi è quello di poter manipolare le coordinate dell'immagine a meno che qualcuno di voi non mi insegni come si faccia che non sono riuscito a capire però c'è da dire che per gli incontri di questo tipo nel senso che quando voi fate un incontro in cui volete far vedere delle cose in realtà magari cioè praticamente mostrate la foto che avete anche se non è messa perfettamente allineata non è un problema se poi voleste invece avere la posizione degli oggetti fatta a regola d'arte si usa un sistema di building che è esterno a qua ma è comunque molto raffinato una specie di blender e questo sistema si chiama Spoke non so se qualcuno di voi l'ha già visto lo Spoke su nei vari corsi o comunque sul noi le settimane prossime cioè fra due settimane quando faremo il prossimo incontro faremo vedere proprio come si usa Spoke e con Spoke voi potete proprio progettare un ambiente mettendo delle varie cose comunque adesso oltre alle foto in realtà potete mettere un sacco di altre cose e quindi potete adesso qui non so se lo faccio vedere premendo la la create quindi la bacchetta che sta in alto si accede a un menu che permette di accedere a Google Poli Sketchfab quindi Sketchfab tanto per intenderci ha i boschetti famosi sapete che ormai siamo siamo boschetto ecco abbiamo ad esempio Dominique Cecilipoti che ne ha fatti parecchio Lorena c'è la famosa boschetto di Lorena e cliccando non potete farlo sicuri che non potete vedete questo qui è il boschetto di Lorena nessuno di voi riesce a fare quello strano vi confermate che nessuno io prima ho visto qualcuno che rezzava non riesci quindi potete fare foto ma non rezzare interessante magari studio è l'analisi del top no qualcuno ha rezzato chi è stato che ha rezzato questa cosa qua ah per rezzare dovete cliccare sulla se mi vedete lo schermo qui dove c'è il create qui in alto mi vedete da qui in alto dove c'è proprio la come si chiama e e infatti l'acquario è una delle prime cose ma poi si possono veramente prendere immagini quindi si possono prendere delle immagini ad esempio qui c'è non lo so vabbè adesso mi viene cerco Harry Potter quindi si possono cercare immagini più o meno in repertorio tipo Harry Potter questo clicco e mi rezza l'immagine io comunque vedo che qualcuno riesce a rezzare degli oggetti quindi non è vero che Samo tu sei riuscito alla fine a rezzare che mi dicevi ok allora una cosa importante come si rezza non è che ci sia un modo cioè è una cosa istantanea nel senso che si va si va proprio su questa cosina la vista cosa intendi come si comunque quello che ho detto prima comunque si va sulla bacchetta si sceglie e poi una volta che si clicca fa il rezza automatico questo è il il cioè si rezza direttamente lì non riesci mi sembra strano ma tu come sei su visore ad esempio comunque gli oggetti dunque numero massimo di oggetti forse ci sarà ma non è così incredibile nel senso cioè non è così bassino tu sei del browser non so un altro modo anche per rezzare è quello di mettere un link quindi se si clicca anche sulla destra dunque da da vr molto poco friendly adesso io l'ho provato anche da vr non mi era sembrato malvagissimo però effettivamente forse ci può essere qualcosa di più semplice dal desktop però non mi sembrava che fosse anzi addirittura una delle cose che dal visore ho trovato invece molto molto più semplice è il disegno se tu vedi in alto c'è questo disegno la penna che se tu clicchi compare un un oggetto e poi questo oggetto praticamente in qualche modo lo avvicini cosa che da desktop è un pochino è un pochino complicato ma da visore invece è più facile allora gli oggetti non è che spariscono cioè rimangono lì ecco tra l'altro vedete che io ho preso la penna in mano cliccando la qualcosa e poi posso praticamente dovrei poter in teoria però vedo che non me lo lascio fare in teoria potrei scrivere cosa che da visore si riesce a fare abbastanza facilmente ma da ah si vedi che scrivo per terra praticamente da desktop è un pochino più problematico gli oggetti che ci sono che tra l'altro vedo che stanno continuando ad aumentare sono si faccia escape ecco tra l'altro si faccia escape gli oggetti si possono cancellare semplicemente con quella tecnica che ho detto prima quindi con space e poi si cancellano oppure vanno via da soli quando poi uscite in realtà gli oggetti rezzati sono tutti temporanei a meno che voi non gli facciate il pin quindi se io vado su questo mio su questo oggetto qua che tra l'altro avete capito anche come si fa per ingrandirlo cioè ingrandirlo si dovrebbe fare con mi sembra con lo shift no allora hold shift and scroll ok se mentre lo tenete premuto fate shift e e muovete la rotellina del mouse potete ingrandire l'oggetto e quindi potete facilmente modificare la la cosa vediamo un po' che qui ci abbiamo Michele Coro che sta arrivato allora quando ho creato la scena ho detto che tutti potevano costruire è anche vero che non ho mai fatto una prova con tantissime tantissime persone collegate e quindi può darsi che ci siano anche problemi di lag però in realtà non vedo lag qua muovendone quindi più o meno questo è quello che funziona scusate un secondo solo si dicevo sono tornato quindi ci si muove molto 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 fluido effettivamente pur essendo noi in 18 quindi è una di quantità di persone interessanti poi magari una delle prossime volte proviamo a farlo in audio direttamente tutto qua dentro per vedere come funziona però mi sembra di capire che non abbia grossissime difficoltà ecco adesso voi le scritte state un po' pasticciando ma io ho fatto delle prove con le scritte in cui ho verificato che facendo le scritte si possono poi diventano poi tutti gli effetti degli oggetti e questi oggetti possono in qualche modo essere salvati anche se non ho ancora capito bene come quindi come al solito dicevo qui se fate se facciamo le cose assieme come si cancellano gli oggetti allora ci sono due modi per cancellare gli oggetti o andate con lo spazio e poi andate con il mouse sull'oggetto e poi vedete che c'è il cestino e allora buttate via è una cosa molto rapida altrettutto quindi io la trovo molto molto comoda oppure alternativamente potete andare sull'elenco degli oggetti in alto a destra e poi potete andare selezionare un oggetto e qui c'è remove qui tra l'altro avete altre possibilità potete vedere l'oggetto del qualcuno sta dicendo qualcosa io un po' se riesco a cancellare il mio audio è acceso? adesso si ho sentito io la prendevo con voi ero io scusate comunque questo incontro di stasera serviva solo per rompere il ghiaccio con questo mondo tra l'altro adesso siamo appunto in 21 qua dentro quindi siamo già in parecchi le possibilità didattiche di questo di questo mondo in realtà sono maggiori di quello che io pensavo non so se avete visto che ho pubblicato il video di un insegnante altrettutto piemontese mi sembrava piemontese che usava proprio fare storytelling direttamente dentro dentro hubs la potenza che si ha qua dentro è interessante perché si possono ottenere anche ad esempio screen sharing lo screen sharing mi sembra di averlo fatto vedere dunque mozilla hub lo vedi bene per la didattica e meno per gli eventi su questo non saprei perché dici questo perché se per gli eventi intendi una persona che parla che espone qualcosa credo che sia analogo non vedo non vedo la differenza rispetto al space peraltro ne fanno già di eventi nel senso che ci sono delle community open source che fanno già degli eventi in in hubs niente quindi no ma al di là del vedremo maggi volevo solo chiederti se qual era la qual era l'osservazione perché il semplice dire vedremo è interessante ma lascia il tempo che trovo poi è chiaro che nessuno c'ha forse perché al space c'ha quel sistema di pubblicizzazione di localizzazione per cui tutto interno per cui si può selezionare forse si cioè specializzato nel fare questa cosa ma la cosa molto interessante di Mozilla Hubs è che gli eventi cioè insomma queste stanze sono ospitate in questo momento da un server da un server che è di Mozilla ma in realtà ognuno potrebbe teoricamente crearsi il server dove vuole quindi secondo la logica di OpenSim che è quello dell'open source più più interessato questo vale ed è molto interessante per il per la scuola appunto dove ricordo sempre che tu dici la scuola sì ma anche per il motivo appunto che è possibile che è possibile entrarci con ragazzini ragazzi di tutte le età che oltretutto noi per esperienza allora il fatto che si può uscire ok credo che sia dovuto il fatto che non hanno messo la collisione ma normalmente c'è la collisione quindi probabilmente è stata una scelta credo che nelle prossime settimane quando vedrete l'uso di spoke vedremo come portare proprio i vostri le vostre creazioni di blender e che ovviamente non avrebbero senso non avrebbero senso quelle creazioni se non ci fosse il ah vedo qui che c'è un Michele Corro eccetera comunque qui abbiamo la possibilità anche di volare avete provato già a volare credo che volare qui se abilitato si possa fare con G premendo G si compare fly mode enabled dopodiché si fa semplicemente V W o freccia e ci si muove si vola dove si vuole l'unico problema è che quando si vola si diventa fantasmi a tutti gli effetti cioè vuol dire che si possono si può superare gli ostacoli e questo è la cosa che mi piace un po' di meno ma insomma esiste comunque la possibilità di e comunque il volo può essere abilitato o disabilitato allora si preme G come come gelato si se tu premi G ti compare in chat una cosa che ti dice fly mode enabled o fly mode disabled e tu a questo punto ti se poi navighi un po' come in outspace no? cioè che fai W adesso ce l'ho disabilitata quindi non me lo fa ah si forse l'ho dimenticato scusate comunque il no però anche senza premere il tasto sinistro del mouse ho visto che si vuole lo stesso cioè il tasto sinistro del mouse serve solo per scegliere la direzione ma non è necessario tenerlo premuto dunque G e devi fare G quando sei fuori dalla chat dice appunto Samo perché se sei nella chat la G ovviamente diventa un testo quindi devi cliccare fuori dalla chat col tasto sinistro ah si forse è quello che volete dire prima ok qui dovete uscire dalla chat tra l'altro per entrare e uscire dalla chat cioè per entrare nella chat fate T per uscire dalla chat si può fare anche escape alternativamente poi ho notato anche un'altra cosa cioè se voi avete un pdf e lo rezzate tra l'altro per rezzare un pdf dovrebbe essere possibile l'avevo fatta l'altra volta quindi vedete che se voi andate sul perché li invertiresti Samo perché il tassi ma no adesso te sembrano strani perché sono invertiti rispetto al space ma in realtà è più normale qua cioè il fatto che su alt space si premi col tasto destro per per muoversi è una cosa un pochino inusuale comunque anch'io sì sì ma anch'io mi confondo soprattutto dopo che sono stato un po' di tempo in alt space però posso dirti che è una cosa strana di alt space e quali altri quali altri usano il tasto destro per perché Second Life ad esempio non usa il tasto destro dicevo la cosa interessante è che si possono infilare dei documenti ad esempio ho provato l'altro giorno a mettere un pdf e il pdf risulta automaticamente è sincronizzato con tutti quindi adesso magari seleziono un pdf che ci avrò spero pdf appena il mio search avrà trovato qualche pdf che ce l'avevo di sicuro ecco vediamo un po' qui ci sono tutti i documenti vabbè coronavirus tanto per rimanere nel argomento allora coronavirus ecco i numeri verdi questo qui prendo le coordinate copy full name e poi vado qui a di fare l'upload di questo documento e poi faccio create facendo in questo modo vedete che lui procede a creazione del non so se lo vedete sono tre pagine io posso fare con lo solito sistema con lo shift il tasto sinistro ingrandirlo quindi vedete non so se lo vedete anche di dietro e questo oggetto praticamente è allineato nel senso che vedete la pagina uno su tre ma se io clicco e passo la pagina due dovreste vedere anche voi la pagina due su tre ho crashato e tra l'altro mi state rubando il il documento quindi chi si scrive in effetti cioè chi presenta che faccia una presentazione probabilmente dovrà poi e poi rimane quel quel simbolo che credo che quando si clicca praticamente trasforma l'oggetto in un oggetto persistente e qui è tutto è sì vero magic e tutti possono modificarlo ma se tu hai assistito ad esempio all'elezione di building di 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 fab cioè di sam sam hai visto che se vuoi fare una cosa del genere in in al space è molto più faticoso nel senso che tutti possono toccarli la prossima volta posso presentare direttamente da qui sì impossibile e infatti credo che lo faremo però adesso appunto abbiamo abbiamo fatto un po' come dicevo prima una come lo inserisci questo come lo inserisci interessante chi è che ha scritto come lo inserisci luks tu no non so come avete fatto scrivere è un'immagine forse o è una scritta chat il foglio che ho fatto per creare quel foglio in realtà mi sono individuato ho semplicemente cliccato vedete che in basso dove c'è la chat c'è la bacchetta che c'è scritto create e lì vi permette di inserire un video un'immagine ma c'è anche la graffetta che vi permette di farlo upload di di un pdf in questo caso io ho fatto il pdf però se avete un video ad esempio un video di youtube vediamo un po' se lo fa se funziona io prendo un video su youtube per esempio questo qui lo faccio ctrl c andiamo sul nostro cosa qua qui in realtà dovrebbe essere sufficiente fare un ctrl v dice no ctrl v ok facciamo create quindi qui dovrei aver messo in teoria un video di youtube adesso volevo chiedervi se voi lo lo vedete adesso l'ho ingrandito lo vedete fermo o lo vedete in movimento in questo momento fermo adesso a che minuto lo vedete forse vedete anche un minuto o no vedete io vedo proprio il minuto 3 minuti e 15 su 1 ora e 42 voi non lo vedete questa informazione da voi si c'è un po' di eco 3 e 13 ora se io faccio il play di questo video lo vedete che si muove questo qui è bergonzone non so se lo conoscete è un video di bergonzone quindi ok quindi in teoria provate anche voi mettiamo sotto stress facciamo un po' di esperimenti mettete un po' di stress a questo mondo provate anche voi a rezzare un video troppo piccolo abbiamo fatto scrivere attenti alcuni i ladri vedevano il cane piccolo ha scritto attenti alcuni Spoke è un editor come Blender che serve per creare degli ambienti in maniera più sistematica ecco un'altra cosa se qualcuno rezza degli oggetti che fanno rumore e magari vi disturbano c'è la possibilità di di ridurre l'audio nel senso che bisognerebbe prima di tutto individuare dov'è forse se fate lo share della vostra camera può darsi comunque quando andate su un video vediamo si dovrebbe poter ecco vedete che quando andate su un video si può controllare l'audio nel senso che compaiono delle tacche io però di eco ne sento un pochino ma non così grave comunque c'è un po' di di rumore aspetta vediamo un po' se riusciamo a ecco qui vedete che ecco se andiamo negli oggetti potete vedere i singoli oggetti e potete anche decidere di aprire il link e quindi andare direttamente al video che viene visualizzato adesso qui c'è un po' di casino oppure rimuovere quindi io rimuovo direttamente quindi in realtà facendo così si può vedere tutti questi oggetti e si possono per esempio questo qui youtube e si possono rimuovere facilmente gli eventuali video che creano problemi da quello che avete visto e se io cancello un po' anche questo remove ve li ho cancellate giusto per togliere un po' di casino quindi diciamo che probabilmente dare il diritto a tutti di creare video e di fare insomma queste cose può essere un po' pericoloso nel senso che chiunque entra potrebbe creare danni ma dunque non può essere il mio perché io ho l'audio mutato qua dentro si quindi no si toglie meet non mi sente più o se no se volete se volete io posso spegnere meet e usare solo qua però dovete dirmelo così uso solo il microfono qua facciamo aspetta proviamo provo a spegnere l'audio in meet e usare solo questo andiamo in meet ha arrivato anche Laura nel frattempo e Michelangelo ciao Laura e Michelangelo avevamo prima il il link di cube.link quindi se volete entrare lì tra poco userò l'audio solo solo laggiù quindi usate il questo link e proviamo a vedere come si sente come mi sentite quindi spengo qua ok e andiamo qui ecco adesso ho attivato l'audio solo qui dentro hubs come si sente ti senti anche meglio però c'è un fruscio sento anche il fruscio ma non so da dove venga può darsi che sia anche un un problemuccio proprio di hubs però mi sentite io ti sento e quindi anche gli altri come mi senti io sento tutto come mi senti si stiamo usando audio mic di ups quindi sta scrivendo mi senti no si ha detto prima che non sentiva forse devi scrivergli dunque io sto parlando vabbè ok allora rimetto magari l'audio di là e tolgo di qua e comunque diciamo che siamo arrivati probabilmente a già un buon punto dell'incontro tolgo l'audio qua e lo rimetto di là ok adesso sto parlando su si ok ah una cosa che poi mi dovete spiegare chi l'ha fatto e come è riuscito come è riuscito a mettere le scritte come immagini perché non ho capito scritta perché se faccio scritta ah forse bisogna fare scritta e poi premere questo si 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 ho capito beh interessante questo ho capito come si fa a fare scritta avete capito anche voi ora da mit praticamente per far comparire quelle scritte lì basta che scrivete in chat e poi cliccate la la bacchetta sulla destra e lui fa proprio questo mestiere quindi c'è una questo è interessante d'altro l'ho scoperto proprio solo adesso vedendovi a voi che lo fate fate si si e le meraviglie del ma direi di si per fare delle cose interattive è molto molto carino chiaramente bisogna avere un bel po' di spazio comunque continuo a ritenere che ci sia tutto sommato pochissimo lag eh si ecco l'unica cosa che non sono ancora riuscito a capire bene è come fare delle oggetti che cliccando producano degli effetti si possono da quello che ho letto si possono fare degli oggetti che cliccando vanno a un link che non sarebbe neanche malvagio ma tra l'altro aspetta ah si posso passare attraverso perfetto ok quindi tutti questi oggetti rezzati non creano neanche troppo casino perché sono phantom buono vedete che si impara come si fa spostare gli oggetti basta che lo clicchi e lo muovi in realtà è molto più semplice di quello che sembra fin troppo semplice si oserei dire bisognerebbe trovare un modo per fissare gli oggetti no puoi cancellare anche gli oggetti degli altri come si ingrandiscono basta che tu le clicchi tieni premuto il tasto sinistro e poi con shift muovi la rotellina all'indietro per ingrandirli ma anche senza ma anche senza shift salvo eh di come così imparano tutti tasto sinistro e rotellina e basta shift non serve no aspetta tasto sinistro ah è vero è vero no è diverso se tu se tu non clicchi shift lui te lo avvicina all'oggetto non lo ingrandisce se tu invece premi shift lui lo ingrandisce grazie quindi sono cose diverse ah beh non ci ho fatto caso no me ne ero accorto io perché mi sembrava appunto che il shift con cioè no il click con la rotellina ingrandisse e poi alla fine ho scoperto che era tra l'altro stavo vedendo che comunque gli effetti di riflesso che sono qua dentro non so se avete l'occasione di vederlo mi sembrano anche di qualità non male perché ci sono i materiali PBR che eh eh sì sì riflette uno proprio e questa cosa qua non so se vedete che mentre mi muovo la luce si riflette in avanti questo effetto qua è interessante ed è abbastanza notevole scusate mi avevo crashato questi testi come li avete messi al centro della scena allora è facilissimo basta che tu gli chatti gli scrivi in chat e poi clicchi invece che invio premi la la bacchetta e lui il testo e lui il testo che è scritto te lo fa diventare un un'etichetta che poi puoi muoverti dove vuoi siete riusciti tutti a a manipolare muovere bellissimo tutto stupendo la bacchetta non funziona magari poi tu cosa sei con questo vero no col pc mi sembra stranissimo forse sei con che cosa sei col pc con firefox o con chrome strano ancora più strano io li ho provati con diversi computer e sono sempre riuscito quando i quest torneranno disponibili e i rift non so mica se torneranno disponibili perchè oculus sta investendo sui quest e i go anzi neanche i go sta investendo solo sui quest quindi mi sa che i rift non esistono proprio più ci saranno i rift s no i go mi sembra che ci siano l'ultima volta che ho guardato c'erano i go fammi vedere un po' amazon.it facciamo oculus go quest go 64 32 64 giga eh 2 venditori si da 347 però che non è il massimo 300 dov'è che l'hai messa questa cosa fai vedere allora adesso te la porto vicino ok vado un attimo a vedere qua se qualcuno sta scrivendo ci sono 7 messaggi ah l'aula scolastica è lì hublink quella cosa lì te lo volevo portare vicino ma cliccandoci ci sono entrato praticamente adesso sto in un'altra ruta in quella dell'aula ah tra l'altro una cosa interessante è che gli oggetti che avete tirato giù da Sketchfab o da altri posti se andate con gli oggetti dovreste poter vedere anche da dove arrivano nel senso che se faccio così seleziono ah qui c'è qualche problema non c'è selezionare niente non riesco ad arrivarci quindi ah si però posso fare spazio giustamente e poi da qui posso avere il open link quindi open link mi dovrebbe far vedere aspetta facciamo options ecco mi fa vedere da dove è stato scaricato l'oggetto questo qui è un oggetto di Rosalia Renda e quindi l'hanno fatto l'hanno fatto proprio per rispettare anche le ma un pochino di lag è possibile che sia anche da aspettarsi però finora io in realtà ho visto che se io faccio ad esempio testi quindi ciao 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 magari ecco se volete provate anche un attimino da soli magari qualche cosa di ah in effetti adesso ci ho provato e non mi è comparso te l'ho messa davanti hai visto? hai visto l'immagine dell'aula? te l'ho messa davanti il viso ah ok adesso si è arrivata ecco se tu ci clicchi praticamente lasci questa ruma e vai lì dentro wow questo è un teleport vero e proprio interessantissimo questo è un teleport in pratica con la bacchetta ascolta con la bacchetta se tu copi il link di un'altra ruma e lo fai apparire con la bacchetta lui ti porta come se fosse una foto però se ci clicchi ti fa abbandonare la ruma attuale ti fa andare lì capito? ma questa stanza qua l'hai fatta tu? o è già presente? no 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 stava sul discord ah ho capito va bene ma è bella è questa è una l'aula proprio a tutti gli effetti con la lavagna contenuta piccola però sta fermo insomma comunque per Eva chiedo scusa se c'è molta confusione stasera per Eva più che altro per darvi un pochino di di idea insomma di quello che poteva essere penso se riusciamo a trovare anche chi fa ecco sarebbe meglio forse viene da da mit sì un po' di confusione effettivamente solo che il doppio è un po' bruttino quindi vediamo un po' se ce l'abbiamo dalle persone vediamo se se vuoi capire chi è che c'è Laura forse se io prendo Laura sì è Laura disattivo il microfono di Laura non è lei a me no non è vediamo chi altri c'è niente di qua c'è solo Laura e quindi sarà qualcuno di qua adesso è pulito adesso c'è ecco adesso c'è ecco no io sento ecco purtroppo voi non lo sentite no non si sente più adesso allora Laura sicuramente c'entrava poi ci saranno dei c'è ancora l'ego quando parli che allora io consigliavo di ah quindi allora era Laura che lo faceva da google meet iscrivetevi non a mozilla hubs in realtà è un link di mozilla credo che sia che poi alla fine probabilmente è lo stesso comunque mutando la finestra del browser di meet io sento veramente una cosa pulitissima di chi che hai mutato andando andando sul lucchetto di meet quello che su chrome sta alla sinistra della barra del browser se io tolgo momentaneamente l'audio al sito tanto meet è un sito e esci solo tu ed esce e però stando qui bisogna starti vicino perché se vado lontano non si sente ma c'è un megafono qua su apps eh no il megafono l'avevo già cercato una volta non c'è e quindi questo è un piccolo problemino ah si mi ricordo che l'avevi detto effettivamente no no e quindi su apps si sente molto bene però bisogna starti vicino e vabbè vuol dire che eh si qua l'audio varia con la distanza ed è abbastanza diciamo varia parecchio cioè nel senso che bastano pochi metri per pochi voglio dire 10 metri 20 metri per comunque ehm prima di lasciarci volevo solo chiedervi ehm soprattutto a chi non l'ha ancora fatto comunque se vuole scrivere o dire eh qualche commentino su su quello che avete visto questo questo mondo di questa è proprio solo una presentazione quindi qualcuno vuole scrivere o dire qualcosa tanto è bello che sono questi avatar gli oggetti magari ecco possiamo poi fare fare di piccole sessioni dunque se guardate il mio video c'è scritto ehm cioè c'è scritto c'è sono presentati quasi tutti i comandi e in più e in più c'è proprio un se cercate mi sembra che io cerco keyboard shortcut mozilla hubs c'è proprio un link dove ci sono tutti i comandi possibili e vi invito ecco l'unico compito che vi do per chi è interessato e magari lo scrivo adesso in meet e poi anche qua ok in questo link se voi andate ci sono tutti i tasti del mouse per il desktop e probabilmente da lì riuscite anche andare ai tasti dove sono le questo qui sì la mia idea originaria era di riuscire anche a costruire era di costruire anche dell'escape room però abbiamo visto che non non c'è moltissima interattività purtroppo però qualcosa si dovrebbe poter fare quindi lo faremo lo esploreremo nelle prossime nelle prossime serate e sul corso nel corso adesso pubblicheremo sia anche la registrazione stasera per chi vuole vederlo che non se noi troppo e anche nel gruppo ed OVR continuiamo a stare insieme bene allora io vedo di interrompere la registrazione e vi saluto buona serata ciao